La risposta all'assalto di ieri a Roma, dove un gruppo di manifestanti no Green Pass ha danneggiato la sede della CGL, è arrivata forte e chiara dall'Italia Democratica e anche dall'Abruzzo, in tante località. Le sedi del sindacato sono rimaste aperte anche oggi, domenica, proprio come presidio di democrazia. Nelle immagini che stiamo per vedere riguardano la sede di Pescara, di via Benedetto Croce, ma sul nostro sito, sul sito www.reteotto.it, troviamo anche le fotografie scattate a Chieti, L'Aquila e Teramo. Ieri, come dicevo, la sede capitolina della CGL era stata presa d'assalto da un gruppo di manifestanti staccatosi dal corteo non autorizzato contro il Green Pass. Il gruppo, guidato dagli esponenti di Forza Nuova, aveva appunto raggiunto il sindacato. Tra l'altro c'erano anche degli agenti di polizia, qualche ferito anche. E dal Partito Democratico, a Forza Italia, c'è la condanna di tutti i partiti, usano parole dure contro i responsabili. Ma in Abruzzo a questo sdegno si è aggiunta anche la polemica politica, perché dal PD fanno notare, Fina e Paolucci, che l'unico rappresentante dello Stato che domani dovrebbe incontrare proprio un rappresentante invece dei No Green Pass, stringendo la mano, è il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha appunto fissato questo incontro. Il PD chiede di annullarlo, mentre Marsilio però risponde, ho ricevuto la richiesta di dialogo da parte delle persone che stanno male, e non vedo quale sia il problema, sono per i vaccini e vorrei che si capisse che questi non sono delinquenti come quelli dell'assalto alla CGL, quelli che incontrerò domani, dice Marsilio, sono non violenti. Fatto sta che questa vicenda sicuramente continuerà a far parlare di sé, vedremo anche quali saranno poi le misure intraprese per queste persone, nei confronti di queste persone che hanno assaltato la sede del sindacato romano.